Come trattare e curare il mesotelioma. Il mesotelioma maligno è la più grave di tutte le malattie legate all'amianto. L'esposizione ad amianto è il fattore di causa e di rischio primario per il mesotelioma. Fare una corretta diagnosi di mesotelioma è particolarmente difficile per i medici, perché la malattia spesso si presenta con sintomi che imitano altri disturbi comuni. Non vi è attualmente alcuna cura conosciuta per il mesotelioma, ma trattamenti come la chirurgia e la chemioterapia può contribuire a migliorare la tipica prognosi mesotelioma e persino aumentare la propria aspettativa di vita. Le cavità all'interno del corpo che comprende il torace, addome e cuore sono circondate da una membrana di cellule note come il mesotelio. Cellule mesoteliali assiste a funzioni generali di organi. Il mesotelio è particolarmente importante per gli organi che sono comunemente in movimento, come l'espansione o la contrazione dei polmoni, stomaco, o cuore. Lubrificazione dalle cellule mesoteliali permette gamma libertà di movimento all'interno del corpo. Il mesotelio del torace, addome, e la cavità cardiaca sono chiamati pleura, il peritoneo e il pericardio, rispettivamente. Ciascuno di questi gruppi di cellule mesoteliali è estremamente critico per le funzioni delle strutture corporee che essi comprendono. Neoplasie, tumori, che si verificano all'interno delle membrane mesoteliali sono conosciuti come mesotelioma maligno, o semplicemente mesotelioma. I tumori benigni del mesotelio sono conosciuti per accadere, ma sono molto più rari di tumori mesoteliali maligni. Il mesotelioma maligno è una malattia in cui maligne, cancro, cellule formano nel rivestimento del torace o l'addome. Essere esposti all'amianto può influenzare il rischio di mesotelioma maligno. Segni e sintomi di mesotelioma maligno includono mancanza di respiro e dolore sotto la gabbia toracica. I test che esaminano l'interno del torace e dell'addome sono utilizzati per rilevare, trovare, e diagnosticare il mesotelioma maligno. Alcuni fattori influenzano la prognosi, probabilità di guarigione, e le opzioni di trattamento. Trattamento del mesotelioma. Anche se nessuna cura esiste attualmente, pazienti affetti da mesotelioma possono migliorare la loro prognosi attraverso vari trattamenti, tra cui la chirurgia, radioterapia, chemioterapia e terapie sperimentali testate in studi clinici. Ci sono cinque tipi principali di trattamento per il mesotelioma. Chirurgia. A seconda della posizione e stadio del tumore e la salute del paziente, tumori possono essere in grado di essere rimosso con la chirurgia. Sono disponibili sia per scopi curativi e dolore sollievo per tutti i tipi di mesotelioma. Mesotelioma opzioni chirurgiche. Il recupero da un intervento chirurgico può durare diverse settimane. Radiazione. Uno dei più antichi trattamenti mesotelioma, tecniche di radioterapia possono indirizzare e ridurre i tumori di fare altri trattamenti più efficaci. La radioterapia può essere utilizzato prima e dopo l'intervento chirurgico per aiutare ridurre i tumori e uccidere le cellule tumorali residue di una determinata area del corpo. Chemioterapia. La chemioterapia è una forma efficace e vitale di trattamento vitale per i pazienti con tutte le quattro fasi di mesotelioma maligno. Con la chemioterapia, le cellule tumorali sono impedito di crescere e moltiplicando in tutto il corpo. Trattamento sperimentale. Gli studi clinici che mettono alla prova le terapie più recenti come l'immunoterapia e fototerapia può rivelarsi efficace se altre opzioni sono esaurite. Gli studi clinici offrono ai pazienti l'accesso ai trattamenti emergenti come i trattamenti di immunoterapia, terapia genica e la terapia fotodinamica. Cure palliative. Tecniche e terapie aggiuntive possono trattare i sintomi di mesotelioma per contribuire ad alleviare il dolore del paziente e la sofferenza. Trattamenti chirurgici aggressivi in combinazione con la chemioterapia e le radiazioni hanno aumentato l'aspettativa di vita di molti pazienti. I trattamenti convenzionali per il mesotelioma coinvolgono la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia. Come la maggior parte dei tumori solidi, i medici si rivolgono alla chirurgia, radioterapia e la chemioterapia per gestire il mesotelioma. Quando esplorando le varie opzioni di trattamento disponibili con il medico è importante essere informati circa i rischi ed i benefici di ciascuno prima di prendere una decisione finale. Chirurgia Molto dibattito esiste come a cui la chirurgia è più efficace, anche se gli studi mostrano che la maggior parte dei sopravvissuti a lungo termine hanno subito una qualche forma di intervento chirurgico. Chemioterapia La chemioterapia, noto anche come terapia sistemica, utilizza farmaci per via orale o per infusione a base di uccidere le cellule tumorali in tutto il corpo. La chemioterapia è usato sia prima che dopo l'intervento chirurgico, come pure in persone che non subiscono la chirurgia. Radiazione Le radiazioni possono essere una parte importante del trattamento del mesotelioma. Il problema è che, poiché il cancro è vicino al cuore e polmoni, è impegnativo per fornire il tipo di alte dosi, la terapia intensiva necessario per ridurre il tumore. Rimedi casalinghi Celidonia appartiene a poppi famiglia ed è coltivato in diverse regioni d'Europa e subregioni asiatiche artiche. Il succo, foglie e radici di questa pianta sono utilizzati per scopi medicinali e possono essere utilizzati come tè, tintura e la polvere. La radice della pianta può essere somministrata oralmente in forma di tè o in polvere. Questa erba insieme con la chemioterapia può curare i tumori di questa dolorosa condizione medica, aumenta il livello di immunità, e abbassa gli effetti tossici della chemioterapia nei pazienti. Un cario ha grandi proprietà antiossidanti in grado di scovare le tossine e ringiovanisce le cellule danneggiate, è possibile preparare il tè con la corteccia di artiglio del gatto.